Cresce il gradimento dei cittadini di Pordenone per il loro sindaco e quanto attesta la classifica 2020 del Sole 24 Ore che piazza Alessandro Ciriani al dodicesimo posto su 105 sindaci delle città capoluogo. La graduatoria misura anche la differenza tra il consenso registrato il giorno delle elezioni e quello attuale. Il sindaco di Pordenone registra un più 1,1% con un gradimento che raggiunge così il 59,9%. Ciriani commenta così il risultato. È una gratificazione, un riconoscimento da parte dei cittadini del lavoro svolto. Di certo questo non significa adagiarsi sugli allori ma al contrario uno stimolo a continuare nell'opera di realizzazione del programma amministrativo con cui ci siamo presentati ai cittadini. Le classifiche quando vanno bene sono sempre motivo di soddisfazione però è anche chiaro che così come si può salire si può anche scendere. Quindi ripeto l'obiettivo principale è continuare a lavorare pancia a terra per raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati e fare in modo che Pordenone possa avere servizi di qualità e in linea come quelli di un capoluogo.